Sono molto contento di questo premio che è anche sobrio. Dimensioni, dimensioni, accettabili. Siccome la carriera penso diventarlo, non vorrei portarlo a Roma. Io questo lo vorrei dare a un mio grande amico, che è il sindaco di Torino, che lo tiene sulla sua scrivania, non ho neanche spazio, e io tra un anno preciso vengo a riprendermelo. Per ricevere questo suo premio così prestigioso, che è onorato una carriera straordinaria, con l'impegno di tenerlo e custodirlo ogni giorno sulla mia scrivania, è un impegno che mi onora e che onorerò ogni giorno e ti aspetto tra un anno per vedere di restituirtelo o comunque di lasciarvelo incomodato anche per dopo. Grazie a tutti voi e grazie a Ettore. Grazie.